Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro oggi prepareremo la pasta allo scoglio vediamoci i miei ingredienti 500 grammi di scampi 300 grammi di anelli 800 grammi di polpo 1 chilo di cozze sale olio pepe cipolla e aglio ecco il nostro polpo in cottura aggiungiamo la cipolla aggiungiamo la cipolla aggiungiamo la cipolla colp Accimapura creare veya cipolla darmi un po' zat mettiamo in camicia la scherzetto la paccia mettiamo dentro il pentolo di cipolle per pulire il filamento interno tagliamo sopra lo togliamo mettiamo un po' di olio mettiamo un po' di olio Mettiamo un po' di pepe, mettiamo un po' di sale, possiamo andare, intanto schiacciamo al testo, mettiamo l'aglio in camicia, olio e facciamo andare le cozze. Andiamo a scaldare l'olio, intanto mettiamo l'aglio in camicia, possiamo mettere la cozia, mettiamo l'aglio in camicia, mettiamo il ghiaccio. Mettiamo l'aglio in camicia. Mettiamo il ghiaccio. Se sono pronte, scuriamo. Scuriamo. Mettiamo. 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 Mettiamo l'acqua. Mettiamo l'acqua. Mettiamo l'olio. Adesso filtriamo l'acqua delle cozze. Facciamo il friggio, facciamo il friggio. andiamo. Sì, sì, sì. Prendiamo un po' di brendi. Mettiamo gli amperi e mettiamo un pochettino di trazione. Prendiamo la piccola capiente e mettiamo dentro tutto, mettiamo la pasta e mettiamo le cozze e i totani. Prendiamo il polipo. Prendiamo qualche minuto e mettiamo la pasta. Prendiamo il polipo. 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 Prendiamo il polipo.